Una serata particolare in quel di Rivara, la sala consigliare ha aperto le proprie porte per una consegna molto speciale dedicata al mondo dello sport. Oggi l'Ultra Team, storico ormai marchio, società del territorio dedicata appunto alle due ruote, consegna a Domenico Succio, diventato qualche settimana fa, qualche mese fa, campione italiano, super gentleman A del ciclismo su strada, voi oggi consegnerete a Domenico la maglia tricolore di Campione d'Italia. Siamo qua con Franco Miele, presidente dell'Ultra Team, quindi una serata particolare, immagino anche una grande soddisfazione per la vostra società. Sicuramente, sicuramente, anzi non ce l'aspettavamo, no, un po' ce l'aspettavamo perché comunque il nostro Domenico Succio si è sempre ben contraddistinto nelle varie corse ciclistiche, sia regionali, provinciali e sapevamo che avrebbe fatto bene. Poi per fortuna quest'anno il campionato italiano si è corso quasi in casa, era a Casanova vicino a Carmagnola, un percorso lievemente ondulato che ho fatto anch'io, il circuito dei Gianin, quindi alcuni telespettatori sicuramente conosceranno questo circuito molto ondulato, poca pianura, non proprio delle salite arcigne, però comunque molto insidioso, molto tecnico e soprattutto nei tratti in pianura dove il vento, lì nelle campagne di Carmagnola, non manca mai il vento laterale e di conseguenza una corsa non con tanto dislivello, ma ugualmente molto insidiosa è molto dura. Il nostro Succio si è ben contraddistinto, passando un ottimo periodo di forma, ce l'aveva anche annunciato, vedrò di far bene e così ha fatto. Infatti siamo qui stasera a Rivara che con il sindaco e le varie autorità vogliamo consegnargli la sua maglia ufficiale marchiata Ultrateam campione italiano Super Gentleman A. E su questo noi Ultrateam come Rivaresi ne siamo orgogliosi, poi comunque Domenico Succio è conosciuto in tutto l'ambiente ciclistico cannavesano, mastica ciclismo da oltre 50 anni, quindi la cosa non ci ha sorpreso. Ultrateam, parliamo anche della vostra società che ormai, come dicevamo all'inizio, è un nome che si è fatto conosce, si è contraddistinto in diversi ambienti, non solo per quanto riguarda il ciclismo su strada, ma anche l'organizzazione di eventi, momenti importanti perché ricordiamo che il cannavese è fortemente legato al mondo delle due ruote. Sì, c'è ancora tanto da fare. Noi siamo formati solamente da cinque anni, quindi rispetto ad altre ciclistiche più storiche siamo tra le più giovani, quindi ci eravate anche voi di Obiettivo News alla presentazione della nascita di Ultrateam, sono solo passati cinque anni, però comunque abbiamo sempre cercato di fare la nostra parte, quindi organizzando anche noi qualche piccolo evento. Siamo ancora un po' agli inizi, stiamo cercando di districarci perché comunque adesso anche con il Covid che noi siamo nati proprio poco prima del Covid e ci ha tarpato un po' le ali, altrimenti noi stavamo pian pianino crescendo, poi purtroppo quel famoso 2020 ci ha tarpato le ali con tanti obiettivi che avevamo in cantiere, abbiamo dovuto un po' riazzerare tutto e adesso piano piano stiamo cercando di risalire la china. Certo Franco che avere un titolo tricolore, avere un campione italiano nella propria squadra è uno stimolo in più anche per il prossimo futuro. Ma sicuramente, tieni conto che Succio aveva vinto l'anno scorso anche il campionato regionale, passate un po' in secondo piano semplicemente perché con l'epoca pre-Covid, post-Covid non abbiamo potuto fare più di tanto. Quest'anno si era preparato molto bene, in maniera molto più serena, più tranquilla e sapevamo che era molto in forma e di conseguenza quindi adesso abbiamo qui a consegnargli la sua maglia tricolore che gli spetta, che porterà fino al prossimo campionato italiano del 2023, però adesso sarà ancora più marcato perché comunque è sempre stato un corridore molto marcato, molto seguito dal resto del gruppo, sanno che è molto pericoloso detto tra virgolette e quindi adesso sarà con questa maglia tricolore che poi adesso andremo a presentare, sarà ancora più difficile per lui la sua vita in gruppo. Concludiamo ancora, parlando ancora di Ultrateam, quali sono poi gli eventi o comunque quali sono le prospettive per quanto riguarda la vostra società? Ma adesso siamo al termine quasi della stagione ciclistica, ci stiamo un po' riorganizzando, riordinando le idee e poi per il 2023 magari faremo una presentazione della stagione e siamo ancora un po' in alto mare perché quest'anno è stata una stagione un po' altalenante per vari motivi, anche perché molti nostri tesserati è capitato che non potevano essere presenti ai nostri eventi, alle nostre gare per motivi che possiamo ben immaginare, positività, non di certo al doping, infatti positività al Covid e quindi molto spesso siamo stati costretti anche a rivedere molte cose. Adesso speriamo che questa pandemia sia definitivamente finita e a questo punto possiamo poi, se uno ha un po' di raffreddore, un po' di febbre, anche se risulta teoricamente positivo, può comunque, se ne sta a casa ma non è che debba condizionare un po' tutto il resto. Quindi quello che succede anche tra i corridori professionisti che hanno più paura di essere positivi al Covid che magari in qualche crema cortisonica magari per curarsi una infiammazione, purtroppo a loro basta un niente e sono subito positivi. Adesso speriamo che questa cosa finisca, quindi su quello poi per il 2023 stiamo riorganizzando, stiamo riordinando un po' le idee e poi dopo sicuramente cercheremo di fare una stagione veramente normale.